Ciao ragazze, questo è un video brevissimo che faccio perché ci tengo a ringraziare personalmente Silvia che è una ragazza che ho conosciuto qui su youtube, è stata una delle prime iscritte al mio canale, poi ha aperto anche lei un canale, quindi abbiamo iniziato a scambiarci i commenti, email, perché lei come me è una mamma e quindi si parlava dei bimbi a volte eccetera, e in uno dei suoi video recentemente avevo visto che lei aveva acquistato per i suoi bambini una magliettina con un personaggio, chi conosce Peppa Pig, sa di che parlo, e lei aveva preso per i suoi bimbi questa magliettina con George Pig, e io la cercavo ma non ero riuscita a trovarla, e così lei è stata molto carina, mi ha detto dai te la compro io per il tuo bambino, gliela regalo io, e mi è arrivato due o tre giorni fa il pacchettino con appunto la magliettina che io aspettavo di George, e poi lei è stata talmente carina mi ha fatto delle piccole sorprese, ora vi faccio vedere, sono stata davvero contenta perché contrariamente a quanto magari si può pensare qui su youtube io ho trovato tanto affetto da parte di tante ragazze, e con alcune diciamo si è instaurato un rapporto un po' più carino, più stretto così, con ragazze che fanno anche video qui su youtube, alcune sì, alcune no, e non solo di makeup, anche per esempio di cucina, di ricette, e mi piace moltissimo questo rapporto che si è creato tra noi. Allora io ho aperto la busta, e in primis ho trovato una letterina di Silvia, davvero affettuosissima, e poi ho trovato la famosa magliettina che è questa, appunto con questo personaggio che è George, che fa parte di questo appunto cartone animato che diciamo fa impazzire tutti i bimbi, compreso mio figlio, ma poi nell'abuso ho trovato anche altro, ho trovato questa pochettina carinissima di Pupa, guardate, l'ho aperta e dentro, sorpresina sorpresina, è il love stage di Essence, questo primer occhi, che io sinceramente non mi aspettavo, insomma, di trovare dei regalini anche per me, grazie, grazie Silvia, sei stata proprio un amore, e poi ho trovato, guardate, in questo fazzolettino, vi faccio vedere, carinissimo tra l'altro, di Hello Kitty, ho trovato questa bella cavigliera, che ho già indossato, l'ho tolta adesso per farvela vedere, con tutti questi ciondolini così, carinissima, e non è finita, perché ho trovato anche, degli orecchini particolari, molto belli, aspettate, forse ve ne faccio vedere uno così, se ci riesco, a forma di, vedete, scarpina, proprio un amore, lei forse, vedendo tutti i miei video, sa che io vado matta, per gli orecchini, e quindi, e poi, oltre a questo, non era finita la cosa, non era contenta così Silvia, mi ha aggiunto anche, questo, ombretto in polvere libera, della Color Trend, di Avon, e ve lo faccio vedere, anche il packaging è molto carino, vi faccio vedere, perché è in polvere libera, e quindi ha questo buchetto così, al centro, e ha anche questo piccolo applicatore, con cui prelevare la polvere, ed è un colore bellissimo, lo sboccio anche così, forse se ci riesco, ve lo faccio vedere, no, purtroppo non si vede, come al solito, è comunque molto perlescente, è molto molto bello, e quindi questo video era per te Silvia, per ringraziarti davvero di cuore, non mi bastava farlo per email, mi avrebbe fatto piacere farlo di persona, questo è il modo più diretto che ho potuto trovare, sei stata davvero, te l'ho già detto, insomma, molto affettosa, molto carina, e davvero, grazie, non so che altro dirti, e vi lascio a voi altre, il link anche del canale di Silvia, così potete dare un'occhiata, e anche lei fa dei video di make-up, molti video haul, quindi sono anche molto utili se avete degli acquistini da fare, e niente, è una ragazza molto dolce, come vi ho detto, molto simpatica, quindi vi consiglio di passare anche dal suo canale, grazie mille a tutte per aver guardato il video, e soprattutto ancora grazie a te, cara Silvia, un bacione forte, 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 anche ai tuoi bimbi, ciao!